Buongiorno a tutti, sono Alfredo Mondini e Dubui Aspiratori Industriali. Oggi vi parliamo della nostra gamma Sky, aspiratori di nebbio oleose. Nelle nebbio oleose si generano i processi di lavorazione dei metalli ed è assolutamente indispensabile aspirarla per rendere l'ambiente sano e salvo per tutti gli operatori. Le nebbie, una volta aspirate, grazie all'effetto della forza centrifuga, passeranno dallo stato gassoso allo stato liquido e trasformandosi in piccole goccioline che verranno drenate tramite un apposito tubo e verranno reimmesse in vasca. I nostri Sky sono facilmente ispezionabili, semplicemente aprendo i quattro ganci posti all'esternità del coperchio per consentire la sostituzione dal filtro multilayer al filtro a cartuccia. Il filtro multilayer viene utilizzato per emulsioni, il filtro a cartuccia però agli interi. La macchina rimane la medesima e non necessita di alcuna modifica. La macchina rimane la medesima e non necessita di alcuna modifica. La macchina rimane la medesima e non necessita di alcuna modifica. Quattro La macchina rimane la medesima e sci-fi